Si concludono i festeggiamenti per il settantesimo del CAI di Albino. Avevamo detto che volevate arrivare alla fine di quest'anno invitando un nome importante dell'alpinismo. Adesso siamo arrivati a questo appuntamento. Sì, in effetti ci eravamo dati come obiettivo di chiudere in bellezza i festeggiamenti dopo tutta una serie di avvenimenti che abbiamo gestito nel corso dell'anno. Volevamo chiudere l'annata con il botto sostanzialmente e quindi avevamo pensato a un alpinista che fosse anche personaggio per poter chiudere in bellezza sostanzialmente. La scelta da parte del Consiglio è accaduta su Ermanno Salvaterra quindi alpinista di caratura mondiale molto attivo inizialmente nella zona del Brent che è la sua zona di origine perché lui è di Pinzolo. La famiglia ha gestito per tantissimi anni il rifugio a dodici apostoli nel gruppo del Brent, allievo di De Tassis quindi ha aperto numerosissime vie importanti nelle dolomiti del Brent dopo di che dall'82 su invito di Casarotto si è spostato in Patagonia e quindi nella zona di El Chalten e si è innamorato, così come dice lui, della montagna più bella del mondo cioè il Cerro Torre a cui ha dedicato tantissime attività e sforzi. Ha salito il Cerro per la prima volta in invernale seguendo la via del compressore tracciata da maestri arrivando in vetta e poi nel susseguirsi degli anni ha svolto diverse spedizioni sempre sul Cerro salendolo da pareti diverse quindi la est, la nord dedicando molti, 30 anni insomma tant'è che è stato definito l'uomo del Cerro quindi oggi è conosciuto come l'uomo del Cerro ha fatto qualcosa anche nella zona del Paine dove si è recato, se ricordo bene, un paio di volte però diciamo che è l'uomo del Cerro ha sviluppato filmati perché si è dedicato anche a filmografia anche per Ambrosio Fogar per cui ha girato un film quindi pensiamo che chiuderemo veramente col botto Ricordiamo quando Ermanno Salvaterra sarà ad Albino Allora, sarà nostro ospite sabato prossimo 10 dicembre presso l'auditorium Comunetti di Albino che è sostanzialmente di fronte al Comune la serata avrà inizio alle ore 21 e all'interno della serata abbiamo previsto anche una raccolta fondi da destinare ai terremotati dall'ultimo terremoto nella zona Abruzzo Marche e Lazio sostanzialmente che sarà gestita dalla protezione civile di Albino tramite loro andremo a raccogliere questi fondi e poi li destineremo non li destineremo